Ciao a tutti, volevo preannunciarvi che, insomma, se avrete voglia e siete curiosi, domani vi posso far ascoltare a mezzogiorno con Periscope il nuovo singolo, che si intitola Sopravviverai, il nuovo singolo dell'album L'Astronave Max. Quindi, se avete voglia, domani, mezzogiorno, Periscope, ormai è disponibile su tutte le piattaforme, oltre che su PC, e quindi potrete ascoltare e seguire questo nuovo singolo. Ciao a tutti! Io non vado in redazione!